cari ragazzi oggi vi presento il mio ufficio velocemente vi dico che serve avere ed è un consiglio che vi do soprattutto in questi momenti di studio a distanza avere un posto che sia adibito solo al lavoro in modo tale da poter dividere perfettamente il tempo del lavoro dal tempo del riposo altra cosa che vi voglio sottolineare l'importanza se potete di utilizzare un computer che sia un pc che sia un mac se avete una sedia con rotelle e una sedia per postazione pc utilizzatela perché vi aiuterà a sostenere la schiena questa che sto inquadrando in questo momento è la mia se invece non avete questa possibilità il consiglio che vi do per il vostro benessere è quello di fare maggiori soste e quindi non aspettare la classica ora per fare 15 minuti ma magari spezzare l'ora in due mezz'ora di lavoro con sosta di altri 5 10 minuti il posto deve essere abbastanza insonorizzato o comunque tranquillo proprio per favorire la concentrazione grazie a tutti